La terza equazione di Maxwell, qui mostrata, può essere in qualche modo vista come complementare alla prima equazione. Questa equazione descrive che un campo elettrico variabile nello spazio è in grado di generare un campo magnetico variabile. Al primo membro osserviamo un prodotto vettoriale tra il termine nabla, che poco prima abbiamo conosciuto, e il campo magnetico. Anche in questo caso il primo membro descrive le variazioni del campo magnetico. Il secondo membro è in questo caso descritto da un numero maggiore di termini, dove peraltro riconosciamo la derivata del campo elettrico rispetto al tempo che risulta il termine principale. Sempre al secondo membro troviamo un termine nuovo, J, che esprime la densità di corrente elettrica. La presenza di quest'ultimo termine non ci meraviglia affatto, infatti l'esperienza ci dice che le variazioni di campo magnetico sono anche proporzionali al valore della corrente che fluisce nel circuito elettrico primario. In questa relazione, oltre al termine epsilon che abbiamo conosciuto poco prima, notiamo un altro fattore molto importante. Stiamo parlando del termine mu. Quest'ultimo termine è in un certo senso relazionato al termine epsilon, poiché in questo caso si descrive il comportamento del mezzo alla presenza del campo magnetico. Il termine mu esprime la permeabilità magnetica del vuoto. Il valore di questa costante è pari a 12,56 per 10 alla meno 7 R su metro. Come vedremo tra breve, queste due costanti saranno molto importanti per quello che dimostreremo. La quarta equazione di Maxwell che qui viene illustrata descrive che il flusso di induzione magnetica uscente da una superficie chiusa è sempre nullo. Quanto detto, sarebbe molto più evidente se descrivessimo la formula di Maxwell in termini integrativi. Tuttavia, il significato matematico del termine di divergenza che possiamo sostituire al primo membro, così come abbiamo fatto nel caso i precedenti, è in grado perfettamente di farci percepire con maggiore chiarezza il significato della relazione matematica appena scritta. Questa relazione ci dice che non esiste alcuna possibilità di poter avere una carica magnetica diversamente da quello che succede nel caso del campo elettrostatico. Infatti, se ricordiamo quello che abbiamo detto a proposito della seconda legge, la divergenza può essere considerata approssimativamente alla stregua di una sorgente di flusso di campo. Se questa sorgente è zero, significa che non possiamo concepire il concetto di carica magnetica o monopolo. Un esperimento molto semplice a farsi consiste nello spezzare a metà una calamita, ebbene potremo facilmente constatare che una volta separate le due porzioni del magnete non riusciremo a isolare i due poli poiché nelle superfici di taglio compaiono immediatamente i poli mancanti ripristinando la condizione del magnete originale, anche se quest'ultimo si presenterà dotato di dimensioni più piccole. Questo, in sintesi, è l'impalcatura matematica che James Clare Maxwell studiò per rendere ragione dei fenomeni elettromagnetici che erano stati scoperti alla fine dell'Ottocento. Applicando le relazioni di Maxwell nel vuoto, i risultati furono ancora più interessanti. La terza equazione mostrava che nel vuoto si potevano produrre facilmente campi elettrici variabili. Per spiegare questa stranezza, Maxwell fece ricorso al concetto di corrente di spostamento. Questi risultati erano compatibili con i fenomeni che erano stati osservati, ed erano spiegabili ammettendo che un'onda elettromagnetica ha una sua particolare velocità di propagazione. È molto improbabile che, per ragioni di chiarezza espositiva, abbiamo profanato un certo rigore matematico, ma siamo riusciti certamente a dare almeno i contenuti essenziali. Abbiamo detto all'inizio del filmato che Michael Faraday sosteneva che esisteva un forte legame fra i fenomeni elettromagnetici e la luce. Questa tesi non era condivisa dai suoi contemporanei, ma non fu più così allorquando i risultati della grande sintesi matematica di Maxwell divennero noti. Per la precisione non abbiamo ancora detto che Maxwell si accorse che la terza equazione che aveva trascritto includeva delle costanti fisiche per le quali era già conosciuto sperimentalmente il rispettivo valore numerico. Queste due costanti sono rispettivamente la permettività elettrica e la permeabilità magnetica del vuoto. Stiamo appunto parlando di epsilon e mu, che correttamente devono essere indicate con epsilon con zero e mu con zero. Maxwell si accorse che il reciproco della radice quadrata del prodotto delle due costanti produceva come risultato un numero che esprimeva la velocità della luce nel vuoto. Questa constatazione dava ragione del fatto che le onde elettromagnetiche avevano veramente qualcosa in comune con la luce. Più tardi si comprese meglio che la luce era costituita dall'alternarsi di un campo magnetico e di un campo elettrico, quindi la luce era essa stessa una radiazione elettromagnetica, così come l'abbiamo descritta nel precedente documentario. Quando Faraday, oramai vecchio, fu informato dallo stesso Maxwell sul risultato analitico che confermava la validità delle sue tesi, ebbe un sussulto di gioia. Egli aveva ragione, la luce e il magnetismo erano la stessa cosa. La felicità indescrivibile che provò possiamo a malapena immaginarcela. Pochissimi anni più tardi, precisamente il 25 agosto del 1867, Michael Faraday muore.